Ciao a tutti e bentrovati! Le novità che abbiamo visto nel video dell'Italia Bank Festival iniziano ad arrivare e proprio oggi è arrivato questo pacchetto che adesso andremo ad aprire insieme. Vediamo cosa si ha mandato. Selle Italia Green Tech Smart Tape, il nastro manubrio che magari qualcuno di voi ha già visto sul blog. Lo andiamo ad aprire insieme e poi vi parlerò un po' di questo prodotto e di questo processo di produzione innovativo che è il Green Tech di Selle Italia. Questa è la trama del nastro manubrio. Ha un bel grip per me che guido la Busy a mani nude di solito in estate. Diciamo che è molto molto interessante. Come vedete si estende per poter essere tirato bene durante la fase di montaggio. Una vera innovazione di questo nastro manubrio come vedete è l'assenza di adesivo. Lo srotoliamo un po' tutto. A una delle due estremità il nastro manubrio è caratterizzato già dal tappo realizzato con lo stesso materiale. Come vedete qui il nastro fa una piccola curva per agevolare, guardate qui la nastratura, fighissimo, e qui poi ci sono i due adesivi per chiudere la nastratura. Uno logato Selle Italia e l'altro con il claim Enjoy Your Ride. Poi qui c'è l'altro nastro manubrio che bellissima idea. Il manubrio si nastra nella parte destra in senso orario e nella parte sinistra in senso antiorario e i due tappi sono stati realizzati in modo tale da favorire questo processo. Guardate qui, si nastra da solo, bellissimo veramente. Confezione del nostro nastro in carta riciclata e cento per cento riciclabile. Sulla scatola del nostro nastro manubrio troviamo già molte informazioni tra cui proprio lo spessore thickness 2.5 mm, l'altezza 35 mm. Qui troviamo in inglese le informazioni del processo Green Tech 100% riciclabile, free dal plurietano e processo di riproduzione è stato ottimizzato per il riutilizzo di tutte le acque e quindi un zero waste. Chi volesse andare a scoprire meglio il processo Green Tech può inquadrare il QR code sulla scatola. Nastro a scialletta, il nastro smart tape è una grande novità della collezione Selle Italia Green Tech. È stato presentato in occasione della Maratona delle Dolomiti e poi naturalmente al grande pubblico durante l'Italian Bike Festival e è disponibile presso i rivenditori proprio in questi giorni. In occasione della Maratona delle Dolomiti il nastro smart tape è stato inserito, pensate, nel pacco gara di ogni singolo partecipante ovvero 3500 iscritti. Il nastro smart tape si presenta in un'unica striscia, eccola qui, con tappo integrato alla fine e realizzato con lo stesso materiale. I due nastri manubrio sono direzionali ovvero un nastro manubrio va nella parte destra e un altro va nella parte sinistra della nostra bicicletta e questa direzione ce la dà proprio il tappo. Il nastro è formato già apposta, come vi ho fatto vedere già prima, fa una piccola curva proprio per facilitare la nastratura. La parte destra del manubrio viene nastrata in senso orario mentre la parte sinistra viene nastrata in senso anti-orario. Sul nostro nastro manubrio al suo termine ecco qui c'è comunque il lato del manubrio dove deve essere posizionato. Destra da una parte right e sinistra dall'altra left. Come abbiamo detto il nastro è realizzato senza la classica striscia B adesiva e la vera novità sta in questa struttura che adesso cerco di farvi vedere a microventosa che sopperisce proprio la mancanza della colla del nastro e permette quindi in caso di nastratura non proprio andata a buon fine facile riposizionamento. Alla fine del nastro manubrio come vediamo qui è il simbolo delle forbici, è la zona del nastro che andrebbe tagliata o per essere messa a cavallo della leva freno cambio o comunque nel caso di eccedenza. Queste particolari caratteristiche del nastro manubrio smart tape di Selletalia permettono un risparmio fino al 20% di tempo da dedicare alla nastratura. Magari quel 20% di tempo risparmiato sulla nastratura possiamo quindi dedicarlo alla manutenzione di base della nostra bicicletta. Una pulitina alla catena e una giusta oliatura della catena non fanno mai male. Il suo spessore di circa 2.5 mm dovrebbe garantire un buon comfort e il tipo di materiale con cui è realizzato dovrebbe garantire anche un ottimo grip ma questo lo vedremo nei mesi a venire anche se poi bisognerà aspettare l'estate prossima per capire come si comporta la struttura di questo nastro manubrio con la sudorazione delle mani magari molto attiva. Dall'analisi della startup italiana Up2You con la quale Selletalia ha intrapreso lo studio e l'analisi delle emissioni di CO2 dell'azienda con l'obiettivo di intraprendere un percorso verso la decarbonizzazione la produzione di un singolo nastro manubrio smart tape comporta l'emissione di 0.72 kg di CO2 che in soldoni equivalgono al circa il 24% in meno rispetto alla produzione di un nastro manubrio tradizionale prodotto al di fuori della Unione Europea. Ma cos'è questo green tech di cui abbiamo parlato all'inizio del video? Questo processo di produzione di Selletalia è un processo ecosostenibile che consente di ottenere prodotti a basso impatto ambientale veloci da produrre e comunque a costi concorrenziali essendo i prodotti non più realizzati fuori dall'Unione Europea e quindi i costi sono nettamente più basi. Una produzione nazionale può risultare molto più conveniente su determinati processi. È un impianto unico al mondo e è stato realizzato da Selletalia nella sua sede trevigiana consentendo di ottenere abbiamo detto selle ed accessori di alta gamma senza l'uso di collanti e plurietani sostanze che notoriamente hanno un forte impatto sull'ambiente. Green tech è quindi un processo rivoluzionario e unico al mondo che combina alte performance, attenzione all'ambiente, man in Italy e prezzo assolutamente competitivo. Infatti 12 euro e 99 al pubblico di questo nastro manubrio piuttosto che il costo medio di una delle selle della linea X-Tech ne sono una testimonianza. Quindi un altro grande passo dell'azienda trevigiana per ridurre la sua carbon footprint e anche l'impatto sul portafogli del cliente concedetemelo. Domani discesa nel box per andare a nastrare il manubrio della mia gravel e iniziare quindi già la settimana di commuting in bicicletta con il nuovo nastro manubrio. Non scappate ci vediamo nel prossimo video. Ciao